Ciao belli miei, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo su Everdale, molti di voi probabilmente non sanno di cosa sto parlando ma vi rimando alla scheda cliccabile qua, trovate tutti dei video che ho fatto riguardo a questo gioco per darvi una notizia non troppo bella però prima di darvela guardate tutto il video perché sennò poi ve la do subito e vi spoilerate subito il tutto, iscrivetevi però attivate la campanella perché siamo ai 19.000 iscritti, manca veramente poco per i 20k, il primo passo verso i 100k che è il mio obiettivo come sapete da raggiungere qua su youtube per il quale ho iniziato a fare video mi raccomando passate anche dal secondo canale che trovate qua sotto in descrizione, passate eventualmente anche oggi pomeriggio in live sul sito Viola, insomma ci sono un sacco di cose che stanno cambiando e robe particolari quindi mi raccomando per restare sintonizzati basta che mi seguiate su instagram e tiktok e siete belli che a posto, waliu waliu eccoci qua, subito andiamo in modalità Brawl Stars, in realtà c'ho anche eventualmente questo vecchio, feci questo diciamo overlay per Everdale quindi possiamo utilizzare anche questo in realtà, un overlay di Everdale che era un gioco che a me piaceva un sacco era uno dei pochi giochi super se lanciato in beta che mi era piaciuto, ok era un gioco secondo me molto valido, sulla carta aveva il potenziale era stato diciamo distribuito nel novembre del 2020, in realtà in estate del 2020 per essere un po' più chiari settembre e ottobre perché per coloro che non si ricordano io l'anno scorso iniziai a fare contenuti di Everdale proprio quando sbloccai diciamo la mia capacità di mettermi la webcam quindi in realtà parliamo, non voglio essere troppo è, ma siamo 2021 a livello di tempo un gioco molto valido a mio parere, veramente carino, se non l'avete mai visto vi consiglio di andarlo a recuperare il gioco in sé per sé era molto semplice, si parlava di questo, vi faccio vedere un po' come funzionava c'erano questi diciamo queste fantastiche cosettine qua, dei villaggini che te potevi creare dovevi, era tutta una questione di logistica, quindi dovevi essere in grado di stare attento nell'andare a costruire questo, quell'altro, 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 dar questo, questo incarico, dar a quell'altro, quell'altro incarico e poi far quadrare tutto, questo era un po' lo scopo del gioco in sé per sé un gioco, sì, per carità, valido e tutto quello che vuoi che però poi ha avuto dei problemi, si è andato a scontrare con problemi di Supercell Supercell ha cambiato molte, molte idee e ha cancellato vi ho fatto un video una settimana fa riguardo a Clash Quest, ha cancellato il gioco insomma Supercell non ho capito bene in che direzione stia andando la vedo particolarmente in difficoltà, io spero che si possa riprendere e che possa lanciare nuovamente un nuovo gioco io sto continuando qua la serie di Brawl Stars sul canale quindi coloro che sono interessati a Brawl Stars qua sul canale la trovano sto facendo ogni tanto dei video di Clash Royale porto avanti StumbleGuys, insomma sto variando il più possibile per catturare la fetta del più grande di pubblico raggiungibile oggi però parliamo di quest'ultimo post postato esattamente due ore fa perché sto registrando il video giusto adesso che dice Villagers, we have made the extremely difficult decision to do the discontinued development of Everdale we would like to thank you all for supporting our game, sharing our feedback and for being the most incredible community we have seen, read more e poi viene questo banner di addio da parte del buon Everdale che annuncia definitivamente il delete del game spero soltanto che Clash Mini rimanga live spero che Clash Mini punti ad arrivare nel lancio globale è un gioco che ha delle potenzialità, un gioco diverso rispetto agli altri di Supercell bisogna capire, purtroppo secondo me Supercell ha provato a creare un po' di giochi non è andata bene, ci sta che li stiano cancellando perché come dicono loro e come andremo a leggere adesso all'interno del loro post del redatto ufficialmente pubblicato su Reddit Supercell dice chiaramente che hanno degli AIG standard all'interno dei loro game quando non li raggiungono è meglio tagliare subito la corda fatto sta, andiamo a leggere un attimo quello che dicono dicono Villagers, it is a very heavy heart to inform you that the team has decided to end the development of Everdale quindi definitivamente cancellato lo sviluppo di Everdale e mettono dei goal extremely, estremamente alti cioè quando loro pubblicano un gioco ci credono fortemente e vogliono che diventi quello che diventa purtroppo questo è stato il problema di Everdale hanno cercato di migliorarlo sempre di più e non ha raggiunto i loro obiettivi da questo punto ha deciso insieme a Crash Quest di eliminarlo il gioco andrà avanti fino al 31 ottobre del... di questo anno che è il giorno di Halloween perché nel gioco ci sono tutte queste pumpkin soup e quindi ci sta molto il collegamento col pumpkin molto molto caruccio come al solito per qualsiasi gioco supercell cancellato coloro che hanno effettuato, ascoltatemi bene dei in game purchase quindi degli acquisti in game magari avete acquistato delle gemme di questo genere qua avete l'opportunità, vi rimando sulla pagina come c'è scritto qua di schiacciare all'interno del del supporto ok all'interno del di di Everdale quindi basta entrare in qualsiasi ragazzi gioco supercell entrate nel supporto scrivete il vostro id il vostro tag e potete trasferire il gioco soltanto su Clash of Clans Clash Royale e dei Boombich and Brawl Stars e sono esclusi da questo il gioco come ad esempio Clash Mini che ragazzi Clash Mini è un gioco non lanciato ufficialmente non è globale e soltanto in beta di conseguenza non è incluso nel discorso che stanno facendo loro c'è poi l'opportunità di ottenere una volta fatto questo vi arriverà all'interno del gioco tipo ad esempio io entro su Brawl Stars chiedo di trasferire qua tutte le robe di Everdale automaticamente le riavrò trasformate naturalmente e convertite in altro io ad esempio mi sembra che avessi shoppato qualcosa su Everdale eventualmente adesso andremo a vedere bene se ho shoppato qualcosa se non ho shoppato altro cercherò di fare un attimo poi il tutto al massimo vi porterò magari un contenuto proprio su questo ho visto che molte persone ragazzi giocavano ad Everdale era un gioco attivo a differenza di Clash Quest che ha diciamo subito un po' di di scontento da parte della community ma in realtà ce lo aspettavamo tutti Everdale io sinceramente non me l'aspettavo purtroppo Supercell ha preso questa strada unlucky il video termina qua spero che vi siete divertiti spero che vi sia piaciuto se avete bisogno di alcuni diciamo chiaramente ulteriori chiaramenti rispetto al video che ho appena fatto trovate qua sotto la box dei commenti basta che mi iscriviate vi consiglio di seguirmi sul sito Viola su Twitch perché faccio live lì eventualmente sull'altro canale perché posto dei video anche lì di altri argomenti finanza diario personale posto un po' di robetta ed insomma ragazzi qua il canale va avanti così siamo belli carichi oggi pomeriggio probabilmente vado noi live qua su YouTube adesso non ne so ancora non ne sono ancora certo ma cercherò di fare il possibile noi ci vediamo domani alle 14 qua sul canale con un nuovo video e domani pomeriggio alle 17.30 o con live o con video shorts cercherò di spiegarvi il prima possibile ciao belli ciao 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 Grazie.